e ancora per gli amici di canale italia summer party è in piena attività ancora ospite ancora amici il pittore dei vip a riedo lorenzone ciao a tutti grazie grazie di cuore sono felice di essere qui con il grande ghibli questa sera ma non sei venuto da solo perché se con la tua musa ispiratrice fior di loto sì sì punto parla tutta la sera adesso che deve parlare sta zitta fior di lotto sei timida molto sei tu che mi fai intemidire sei bellissimo a riedo la tua prossima opera la mia prossima opera non dovrei dirlo ma ormai lo rendo pubblico a settembre consegno il dipinto ad adriano celentano a galbiate lo sto lavorando e quindi è un lavoro molto importante molto bello a riedo lorenzone che però è fresco di investitura perché anzi mi perdoni se ho errato cavalier a riedo lorenzone eccolo qui qui diciamo che sono stato investito alla nella chiesa di san francesco d'assisi dieci giorni fa cavalieri di malta per me è una grande soddisfazione è un grande onore perché essere cavalieri di malta oggi come oggi è una cosa un titolo nobiliare di tanto rispetto nobiliare si e quindi sono felice felice io ti saluto ti auguro una buona estate un buon summer party a te ea fior di lotto la sua la sua la sua la sua musa ispiratrice è stato un grande grazie grazie